salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ragazzi questo è solo un piccolo video per mettervi al corrente di una novità che riguarda il marchio dji diciamo che questa azienda è scatenata per quanto riguarda appunto i prodotti che sta lanciando veramente una quantità secondo me è importante per la tipologia e il costo di prodotti che questa azienda mette sul mercato e sembrerebbe che a settembre sia pronta a lanciare un nuovo drone o meglio una nuova versione di lui che si chiamerà dji mini 3 praticamente verrà tolta la parola pro dal appunto dal nome rendendo appunto questo drone che arriverà sul mercato una versione più economica e sembrerebbe da fonti abbastanza attendibili perché sono le stesse fonti che ci fanno vedere sempre in anteprima le foto dei droni che arriveranno con le loro caratteristiche quindi queste fonti che normalmente non sbagliano mai dichiarano che addirittura verrà messo sul mercato a settembre comunque se poi non sarà settembre magari sarà ottobre però sembra molto molto certa la cosa che stia per arrivare appunto questa versione del dj mini 3 che sarà identico a lui quindi identico a questa versione che è la versione pro con la differenza che non avrà i sensori anti collisione quindi questo lo renderà un drone più economico e soprattutto per chi non è interessato ai sensori potrà risparmiare appunto dei soldi questa cosa ragazzi sicuramente ci sta ed è anche una spiegazione al fatto che dj ha chiamato questo drone dj mini 3 pro e non dj mini 3 perché comunque lui è uscito già come pro non essendoci un 3 normale e che ragazzi questa è sembrerebbe la spiegazione di già lanciato prima la versione quella top e poi andare indietro magari poi in futuro arriverà anche una versione se con qualcosa ancora in meno quindi con un prezzo ancora più basso ma questo poi lo scopriremo e ragazzi veramente dj sta sfornando prodotti come se non ci fosse un domani con la crisi economica che incalza dovuta al caro energia che sicuramente si sta facendo sentire nel mondo loro producono più prodotti di quelli che producevano prima è pazzesco ragazzi è un mondo che a volte gira al contrario perché poi come sapete dj sta per lanciare anche sempre a settembre si mormora che questa cosa è la nuova dj osmo action versione 3 quindi un altro prodotto nuovo cioè veramente incredibile appena lanciato il dj avatar che già si parla di qualcos'altro per quanto riguarda casa dj quindi questo era solo un piccolo video informativo vi aspetto qua sotto voi nei commenti per sentire la vostra opinione per avere il vostro parere per quanto riguarda questa nuova versione dj mini 3 pro e per quanto riguarda anche il fatto di dj che rilascia prodotti in maniera veramente accelerata forse ancora di più di quelle che ha sempre rilasciato in precedenza negli anni scorsi quindi ragazzi se questo mio video informativo in cui io vi ho messo al corrente di questa probabilissima novità per quanto riguarda dj vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler dei prodotti che arriveranno su youtube e spoiler delle location dove vado a far volare loro un sacco anche di stupidate magari arrivano su instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni ma tutta la tecnologia in generale tutti i coupon ovviamente scelti da me e soprattutto ragazzi però iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o novità ciao e al prossimo video ciao